La curva sud era arrivata sin sotto le finestre di Palazzo Cavallo per una manifestazione di protesta. La crisi dell'Arezzo Calcio era così entrata nell'aula del Consiglio Comunale con un'interrogazione al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli dai banchi dell'opposizione proprio sulle sorti del club Amaranto. Purtroppo non c'ero quindi non è che l'ho potuto incontrare, ma io gli vorrei, usare la parola tranquillizzare non è bello in una situazione incerta come questa, però gli vorrei tranquillizzare che quello che è nel potere del sindaco è già in atto, non è che lo farò, è già in atto. Sia per quello che riguarda contatti con la società, in particolare con il suo presidente, con Giorgio Lacava, che continua a essere ottimista. Io devo dire che prendo atto di questo suo ottimismo, evidentemente ha in mano dei contatti tali che gli consentono di prevedere che ci sarà quanto prima o non so quando una cessione. ovviamente essendo una trattativa privata io non è che ci posso entrare nel mezzo, so che esiste, che c'è e che viene sviluppata dal presidente che ha intenzione e non lo dice da oggi di vendere. Se quest'operazione dovesse andare male, ma tocco ferro veramente, perché non ci dovrei nemmeno pensare a questa seconda ipotesi, però siccome potrebbe avvenire, dobbiamo attrezzarci per una ripartenza, voi lo sapete che è il sindaco che poi si deve adoperare per far ripartire una cordata che faccia rinascere la società dalla serie D. E io ci ho già lavorato, ho già contatti con imprenditori, disponibilità. Posso dire che nessuno in questo momento, e lo capisco perfettamente, vuole apparire, vuole comparire, vuole far sapere che è disponibile, perché c'è una forma di rispetto rispetto all'attuale assetto societario, cioè uno non è che sembra che sia un corvo che sta aspettando che il dramma si compia per poi approfittarne, non è così, ci sono persone disponibili a farlo e devo anche dire che finché mi sarà possibile tenterò, se dovesse essere questo il caso, di mettere insieme una cordata a retina e non una cordata che viene da un'altra città, perché abbiamo visto che quando non c'è quell'amor proprio che lega il Presidente o comunque il pacchetto azionario fondamentale alla città, nascono i problemi. Questi preditori sarebbero interessati a rilevarla anche in Lega Pro? No, questo è assolutamente no, perché il problema debitorio è importante, quindi chi dovesse fare un'operazione del genere lo vuole fare su una società pulita, anche se parte da più indietro e quindi è comprensibile questo stato di cose. Al momento attuale non mi risulta, anzi posso dire che non ci sono cordate locali per rilevare questa società.